Eravamo sereni anche prima, è stato un periodo un po' meno positivo, però siamo ripartiti benissimo dopo la sosta, era importante per la fiducia, per l'entusiasmo e adesso dobbiamo continuare su questa strada. Più difficile forse è la seconda delle tre una dietro l'altra, la prima e la terza erano più di posizione e la seconda sono riusciti a spingere bene sul colpo di testa di Pessino. La Verona è un'ottima squadra, ci ha persati alti tutta la partita, ha messo grandissimo ritmo, sappiamo che anche mercoledì sarà una sfida difficile, forse simile perché anche loro tengono molto alto il ritmo, hanno qualità, abbiamo visto l'anno scorso che non è stato per niente facile giocare da loro, quindi dobbiamo essere sempre concreti in fase difensiva e soprattutto ancora di più in fase offensiva. Tenere la porta in violata fa sempre piacere, dà sempre fiducia perché è importante, è importante non prendere gol e siamo stati bravi in fase difensiva, oggi tornare a Ferrara sarà sicuramente una grandissima emozione, ho visto due anni bellissimi là, quindi sarà un grande piacere tornarci. Grazie a tutti!